Le cose stanno che l'unica responsabilità del definanziamento degli interventi per il manicomio e per il dipartimento di veterinario dell'Ateneo è una responsabilità dell'Ateneo che il Rettore stesso conosce e che nella sua onestà intellettuale ha ammesso perché se ai suoi tempi quei fondi che erano stati destinati all'Ateneo fossero stati spesi, se fossero stati fatti i progetti in tempo utile a bandire le gare e a fare gli appalti, quei fondi sarebbero stati spesi come sono stati spesi da altri soggetti attuatori in altre parti d'Abruzzo. Purtroppo la complessità progettuale dell'intervento ha comportato delle lungaggini, dei ritardi che nascono intanto dal fatto che il mio predecessore ci mise due anni per trasferire i fondi da quando nel 2016 sono stati stanziati a quando l'università li ha avuti nella disponibilità, progetti fatti male tant'è che nell'ultimo anno ci è voluto un anno soltanto per fare la validazione che ha richiesto almeno 6 o 7 integrazioni rispetto al progetto che era stato presentato e la Regione ha fatto tutto quello che doveva, abbiamo rifinanziato un'opera senza avere nessun dovere di farlo perché l'opera non è stata definanziata per colpa della Regione ma per responsabilità del soggetto attuatore. Abbiamo riportato a Teramo più soldi di quanti erano stati definanziati. Ecco, lei ha fornito anche le cifre, vogliamo fare un quadro anche da questo punto di vista? C'erano inizialmente due progetti finanziati con il ciclo dei fondi di sviluppo e quesione 14-20. Erano 30 milioni per il manicomio e 18 per la veterinaria. L'università disse che i 18 della veterinaria li avrebbe potuti spendere tutti e quindi ha conservato quel finanziamento. Purtroppo è stata in grado di spenderne solo 5 e ha fatto perdere all'Abruzzo 13 milioni di finanziamenti che sono tornati a Roma. I 30 milioni invece, quando il Ministero, guidato allora da un esponente del Partito Democratico, Provenzano, ha notificato alla Regione che quel progetto non stava andando avanti, non per colpa della Regione, ripeto, perché il soggetto attuatore è l'Ateneo che non aveva fatto le progettazioni in tempo utile, ci ha costretto a definanziarlo e gli abbiamo lasciato i fondi per progettare 2 milioni e 100. Quindi noi avremmo dovuto ridare 27 milioni e 9 e lo abbiamo fatto solo perché condividiamo l'importanza strategica di questo intervento, ma non perché fosse un nostro dovere, perché quando uno non è capace di progettare e perde i fondi non è che ha diritto a un risarcimento, è colpa tua se non sei stato in grado di concludere il progetto. Ciò nonostante noi abbiamo preso l'impegno a rifinanziare e complessivamente nell'accordo di coesione attuale abbiamo dato all'Ateneo 38 milioni, che è un occhio della testa e altri Atenei farebbero ponti d'oro per avere un decimo di quello che ha avuto l'Ateneo di Teramo. Quindi che il sindaco di Teramo strumentalizzi il fatto che siccome l'opera è molto ambiziosa e il restauro e il recupero del manicomio costerebbe addirittura 60 milioni, qualcuno stia in debito con la città, è un'assurdità, ci faccia sapere lui magari quanti soldi vuole mettere sul recupero del manicomio, se crede anche lui e la sua amministrazione al recupero di questo spazio oppure se deve fare tutta la regione, perché finora tutto ciò che si sta facendo e tutto ciò che si farà ed è tanto, perché con 20 milioni si ristrutturano almeno 4 edifici all'interno del complesso monumentale del manicomio di Sant'Antonio Abbate e si faranno con priorità quelli di maggiore interesse dell'università e cioè le aule studio, gli studentati, tutto ciò che serve alla didattica in particolare si sviluppa con priorità quella parte di progetto. Siccome non ci vorrà un giorno per completare, andare a gara, vedere il cantiere e così via facciamo lavorare, perché la capacità poi imprenditoriale va messa alla prova facciamo partire i cantieri, vediamo i lavori fatti e poi ci poniamo il tema di reperire anche ulteriori risorse per andare avanti, però è ora che qualcuno faccia vedere un cantiere perché è dal 2016 che queste decine di milioni stanno fermi e quelli che le hanno ricevuti non hanno ancora dimostrato di saperli usare. Presidente, la conferma è arrivata anche quando la Meloni è arrivata all'Aquila, proprio lei ha messo questo progetto all'interno dell'accordo? Noi l'abbiamo messo all'interno dell'accordo perché abbiamo rifinanziato tutti gli interventi che erano stati definanziati con il cosiddetto accordo provenzano e ripeto lo abbiamo fatto senza aver nessun dovere, perché il rifinanziamento di questi interventi doveva avvenire ad opera del governo precedente che aveva preso questo impegno e lo aveva sottoscritto e non lo ha onorato, quindi se qualcuno ha fatto uno scippo, questo scippo è stato fatto dal Partito Democratico nella persona del Ministro Provenzano e del governo Conte e successivamente Draghi perché neanche il governo Draghi ha mantenuto questo impegno. Noi abbiamo inserito nella parte dei fondi a nostra disposizione il rifinanziamento, ci è costato circa 200 milioni del miliardo e 250 che ci veniva dato, avremmo potuto scegliere altre opere e finanziare altre cose, abbiamo voluto confermare l'importanza e la strategicità di questi interventi, abbiamo a cuore la sorte e il recupero del manicomio Sant'Antonio Abbate, spero che le istituzioni che hanno ricevuto questi denari importanti siano in grado di essere all'altezza di questa generosità e di questo importante contributo da parte della regione. A Teramo ci sono tante opere che ancora non vengono finite e il Sindaco dovrebbe pensare a quello? Il Sindaco si concentri sulle sue perché mi pare troppo concentrato a vedere se io ho fatto o non ho fatto, ho dato o non ho dato, siccome penso di poter dimostrare di aver dato molto alla città di Teramo e di aver portato finanziamenti importanti e di aver garantito le condizioni per fare opere che Teramo attende da molto tempo, si concentri sulla sua di attività, perché è ora che la smetta di raccontare il falso e cioè che io abbia sottratto qualche cosa alla città, che io sia debitore e che debba dare altro alla città, che quello che ho dato non basta, perché questa è propaganda elettorale e un Sindaco ogni tanto dovrebbe fare il Sindaco e non il militante di partito. Presidente, c'è sempre poi un rimpallo di responsabilità, non ultimo il discorso dell'ospedale, anche questo probabilmente sarà un tema che verrà fuori tra qualche giorno. Verrà fuori quando la commissione che sta pazientemente, io sto pazientemente attendendo che la commissione di esperti di altissimo livello e qualificatissima ci dia il risponso finale sulla compatibilità o meno e quindi sulla scelta del luogo dove fare l'ospedale. Sono passati altri mesi, avevo chiesto a ottobre di prendere una decisione da parte del Comune, la decisione è stata facciamo una commissione. Va bene, abbiamo ripetuto gli studi che erano stati già fatti, li stiamo ripetendo, vediamo qual è il resido, io ripeto in silenziosa attesa faccio lavorare gli esperti, che non sono solo i miei, sono quelli dell'ASR, sono quelli della Regione, sono quelli del Comune. Quando questi esperti avranno dato il loro risponso parleremo e agiremo di conseguenza. Grazie. 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 Grazie.